Salve e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale, secondo giorno di protesta per i dipendenti dell'ex provincia regionale di Siracusa. Non solo occupazione, questa notte hanno trascorso le ore all'interno del palazzo di Via Malta. Secondo giorno di occupazione per i dipendenti dell'ex provincia, libero consorzio, c'è ancora il lenzuolo che parla di un ente occupato, delle parole della politica che non bastano più, ciò che serve sono soltanto gli stipendi. Come ormai da mesi continuano, stanno ancora aspettando, i dipendenti aspettano, aspettano che arrivano gli stipendi, adesso aspettano da Palermo invece qualcosa che possa forse sbloccare cosa? Che sblocca questi trasferimenti che noi attendiamo. Quindi si attende che l'assessore Lantieri firma questa, svincola diciamo più che altro queste somme perché pare che siano bloccate a causa di una diffida fatta dalla provincia di Ragusa. Si attende l'ok perché possono fare i mandati, quindi noi siamo qui ad attendere questa risposta e capire se effettivamente oggi ci saranno i mandati. Tanto oggi non vi fermate, oggi continua l'occupazione, avete dormito dentro il palazzo di Via Malta? Sì, continueremo ad oltranza fino a quando non ci saranno le somme al nostro tesoriere, soltanto in quel momento noi forse ci fermeremo perché vorremmo capire che il problema non si ferma alle 5 mensilità o alle 6 mensilità, il problema va oltre perché intanto ci devono garantire gli stipendi fino a fine anno e soprattutto il dopo perché per noi il salto del dopo ancora non l'abbiamo capito qual è. Continua la protesta, non vi fermate, vuol dire che proprio la misura questa volta è colma, aspettate, aspettate, aspettate. Sì, ma adesso se non arrivano i soldi in banca, se non ci sono dei segnali veramente tangibili che queste somme siano state sbloccate e possano essere date a favore di tutti gli stipendi in arretrato dei lavoratori, i lavoratori non si fermeranno. Certo è degradante, mortificante vedere tanti padri di famiglia, tante persone per bene, qua in mezzo alla strada o costrette a fare la notte ad occupare l'ente quando quelle persone che effettivamente sono responsabili di tutto questo sono impunite e stanno ancora girando e forse molti facendo campagna elettorale, facendo politica. Tutela del centro storico, proposte ma anche proteste, Ortigia Sostenibile tira le somme dell'attività svolta finora. Il centro storico di Siracusa e la sua vivibilità, il comitato Ortigia Sostenibile tira le somme di un'attività che da mesi mette al centro della discussione le regole della convivenza, del decoro nell'isola, deor, musica, turismo e incontro tra tradizione e nuove regole. Di cosa può andare meglio? In questi giorni state affrontando diverse tematiche anche in maniera polemica, pensate che le amministrazioni possano fare di più? Guarda, è da un anno che lavoriamo e anche più. La nostra valutazione è questa. Sul piano concreto dei fatti riscontrabili non c'è stata alcuna differenza rispetto al passato, alcun passo in avanti. Quindi Ortigia anche questa volta, anche quest'estate è stata invasa da turisti e questo ci fa molto piacere. Molto animata ma anche molto disordinata. quindi piena di tavolini dappertutto, molto spesso abusivi e l'abbiamo detto. Molti residenti, molti turisti sono scappati per la musica che non riusciva a farle riposare e questo non è compatibile con un soggiorno turistico. Però accanto a questi fatti che purtroppo rimangono dove sono, non possiamo nemmeno nascondere che abbiamo in qualche modo introdotto un tema e quindi anche da parte dell'amministrazione, da parte di alcuni assessori c'è una maggiore attenzione, c'è quantomeno lo sforzo dichiarato di volere rimediare, di fare qualcosa, c'è qualche tentativo che è stato fatto, qualche controllo in più. Un confronto con l'amministrazione comunale per tracciare i confini della convivenza tra proposte e prese di posizione. Le cose che chiediamo sono due, da un lato quello di fare applicare le leggi esistenti per il governo del territorio in Ortigia e anche fuori dal territorio, quindi semplicemente rispetto della legalità. Si deve sapere che oggi in Ortigia sono moltissimi i campi dove l'illegalità dilaga. L'altra questione invece è più complessa ma anche più di prospettiva. Noi crediamo che il problema di Ortigia si affronti fuori da Ortigia e cioè dobbiamo rivitalizzare e rendere gradevoli e appetibili, anche interessanti per i turisti e per i residenti, altre aree della città. Questo dà dignità alla città. In arrivo una soluzione tampone per le classi in esubero dell'Istituto Comprensivo Archia, una mano d'aiuto arriva dal liceo classico Gargallo. Uno spiraglio per la questione dell'Istituto Archia, una situazione divenuta ormai insostenibile e inaccettabile, soprattutto considerando che nel plesso di via Sbesta, nato per venire incontro alle esigenze del quartiere Pipoli, nel lontano 2006 furono provvisoriamente collocati altri due istituti di quartieri diversi. Tali circostanze, non più reiterabili, hanno determinato l'avviamento di doppi turni nei plessi della scuola primaria di via Montetosa, unica soluzione a talmente possibile. Ma la situazione sembra avere una soluzione, come comunica la dirigente dell'Archia. Infatti, l'innovazione di un progetto di orientamento per i ragazzi della terza classe della scuola secondaria. Un progetto ideato dalla dirigente Valeria Nicosia, accolto dal dirigente scolastico Maria Grazia Ficara del liceo classico Gargallo. Ed è grazie a un protocollo di intesa stipulato fra i due istituti che i ragazzi dell'Archia potranno vivere un'esperienza formativa in attesa della consegna dei nuovi locali e in alternativa anche alla proposta dell'amministrazione comunale di mandare una classe presso la sede dell'Istituto Comprensivo Martoglio di via Monsignor Caracciolo. Quindi le terze classi a rotazione ogni 15 giorni saranno ospiti nel plesso di via Luigi Monti, dove in aggiunta alla regolare attività didattica potranno intraprendere anche percorsi laboratoriali con studenti del Gargallo. Ora tutte le energie sono indirizzate alla risoluzione del problema dei doppi turni di via Montetosa. Revoca dei 2 milioni alla società Open Land. Il CGA infatti sospende la perizia tecnica e rinvia tutta l'udienza di merito del 14 dicembre. Il CGA ha sospeso le operazioni peritali nell'ambito della revocazione chiesta dal comune capologo rispetto ai 2 milioni e 800 mila euro consegnati all'Open Land in attesa di completare l'iter processuale relativo proprio al maxirisarcimento. All'ultima udienza infatti il collegio ha emesso un'ordinanza con la quale ha accolto le eccezioni sollevate dalla difesa della società che ha realizzato il centro commerciale Fiera del Sud sospendendo la consulenza disposta d'ufficio dallo stesso CGA. La consulente tecnica Marcella Caradonna, presidente dell'Ordine dei commercialisti di Milano avendo riscontrato l'assenza di documenti nel fascicolo 988, ha avanzato al CGA un'istanza per essere autorizzata ad attingere documenti da altro fascicolo. L'avvocato Mario Fiaccavento, che difende l'Open Land, ha avanzato un'eccezione accolta da CGA che ha rimandato tutto alla nuova udienza di merito del 14 dicembre. La società privata sostiene che l'istanza di revocazione della somma resa dal comune sia da rigettare perché parte dal presupposto errato che la sentenza 73 del 2015 non sia passata in giudicato. Ci spostiamo alla Tonnara di Santa Panagia, saccheggiata, abbandonata, ormai una vera e propria discarica a cielo aperto, ce lo racconta la rubrica La Spina nel fianco. I lavori sospesi nell'ex Tonnara di Santa Panagia potrebbero riprendere tra breve. Era questa una delle tante dichiarazioni dei rappresentanti della politica siracusana nel mese di giugno scorso che rasserenava i cittadini e gli ambientalisti sulla sorte e il degrado in cui versava la vecchia Tonnara di Santa Panagia con l'aggiunta che erano già disponibili oltre 6 milioni di euro per la risoluzione del contratto e la chiusura del contenzioso sfociato con l'impresa affidataria dei lavori e la ripresa della ristrutturazione del vecchio sito marinaro. In quei lavori di ristrutturazione una nuova impresa doveva subentrare perché riconosciuta quale seconda classificata nella gara di appalto della soprintendenza mentre si indicava il 2020 per la fine dei lavori e il collaudo. Ma per la cronaca fino ad oggi il cantiere si presenta come un luogo saccheggiato dove sono a disposizione di chi ne ha necessità tante belle tegole antichizzate o pietre di pregio spariti anche fregi e stemmi, vasche di pietre e scalini caratteristici del tempo. Un cantiere abbandonato con il cancello aperto rimane in mano ai vandali ladri, drogati e sbandati, senza tetto e di alcuni extracomunitari che a volte pernottano alla meglio negli ampi locali. Un girone infernale che parte dal viale Santa Panagia per arrivare alla Tonnara che ingloba ettari di terreno di macchia mediterranea compresa l'ex cava di pietra trasformata in discarica e ora abbandonata chiamata ex magliocco. In mezzo a milioni di tonnellate, rifiuti e detriti di ogni genere e natura il cancello d'accesso della vecchia stretta strada è ormai aperto notteggiorno e il luogo si è trasformato in una distesa immensa di rifiuti lungo tutta l'antica carreggiata che porta alla vecchia Tonnara mentre i terreni circostanti a vista d'occhio sono invasi da tonnellate di detriti scaricati liberamente sotto gli occhi di tutti. Fino a formare una grande discarica a cielo aperto coperta in buona parte dalla vegetazione a due passi dal centro abitato. Nessun controllo, tutto è abbandonato, la Tonnara vandalizzata per l'ennesima volta in un calcolo veloce si sommano nel totale circa 8 milioni di tonnellate di detriti. Ma ora per ripulire dai rifiuti l'intera zona occorrono tanti milioni di euro che non ci sono. Ma chi pagherà tutto questo assurdo abbandono e leggerezza per l'ambiente circostante? Benvenuti a Siracusa, città della struggente bellezza, della cultura e per la difesa dei diritti umani ma senza alcun rispetto per la natura. La cronaca, una donna, un insegnante di 37 anni è rimasta ferita dopo essere stata travolta da uno scooter, stava attraversando le strisce pedonali, l'incidente si è verificato a Villasmundo. L'insegnante stava andando a scuola quando è stata colpita con uno scooter di piccola cilindrata che non è riuscito ad evitare l'impatto. Gueribile in sette giorni, lo scooterista, un 17enne, è stato denunciato. Una coppia di palermitani acciuffata dai poliziotti e la squadra mobile Rosolini in automobili aveva oltre un chilo di cocaina. Viaggiavano a bordo di un'auto sulla quale trasportavano un ingente quantitativo di cocaina in manetta è finita una coppia di palermitani intercettata dai poliziotti della squadra mobile della Questura. L'operazione è stata portata a termine nel territorio di Rosolini nell'ambito del contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Arrestati Dante Parisi di 51 anni e Alessandra Pepati di 31, entrambi di Palermo, trovati in possesso di oltre un chilo di cocaina. La droga è stata trovata a seguito della perquisizione effettuata dagli agenti di polizia all'interno dell'autovettura sulla quale viaggiava la coppia in un vano posto sotto il sedile anteriore destro. La donna è stata accompagnata nel carcere di Piazza Lanza a Catania e l'uomo nel carcere di Cavadonna. È probabile che i due corrieri della droga stessero portando la cocaina per alimentare il mercato della provincia siracusana. I poliziotti del commissariato di Noto hanno sventato un furto di giocattoli presso un deposito in contrada Volpiglia. I poliziotti, un quarto d'ora dopo le quattro del mattino, sono intervenuti in contrada Sant'Andrea per un sinistro stradale. Giunti sul posto hanno notato un autocarro Mitsubishi con ancora il motore caldo, impattato contro un muro di recinzione di un appezzamento di terreno. Il mezzo trasportava un carico di scatole voluminose di cartone contenenti giocattoli per un valore complessivo di circa 15.000 euro. Il veicolo non risultava rubato e il proprietario riferiva che il mezzo era stato sottratto e nottata dal suo deposito attiguo a quello della ditta di giocattoli. I poliziotti, avendo notato transitare un mezzo di quest'ultima azienda, lo hanno invitato a fermarsi per far visionare il materiale rinvenuto. L'autista confermava che la merce rinvenuta sull'autocarro era di proprietà dell'azienda di giocattoli per la quale lavorava. Contattata la titolare, i poliziotti procedevano ad un sopralluogo presso il deposito giocattoli, dove potevano constatare che i gnoti malviventi, in nottata dopo essersi introdotti nei locali attraverso un foro procurato nel muro a mezzo a mazza ferrata, asportavano i pacchi di giocattoli caricandoli sul mezzo. L'intervento della volante faceva desistere i ladri, che abbandonavano il mezzo in contrada a Sant'Andrea, dileguandosi nelle campagne circostanti. Controlli antidroga sugli autobus frequentati dagli studenti. I carabinieri hanno arrestato un 28enne siracusano, aveva con sé otto involucri di Ascish. Uniamoci contro le droghe. Il progetto portato avanti dai carabinieri ha permesso di arrestare uno spacciatore. I carabinieri della compagnia di Siracusa, congiuntamente al nucleo carabinieri cinofili di Nicolosi, hanno proceduto al controllo di alcuni autobus di linea che effettuano il servizio scuola da e per la città di Siracusa, per prevenire e contrastare l'uso e lo spaccio di droghe a bordo dei mezzi di trasporto pubblici. Nel corso dei predisposti servizi alle prime luci dell'alba della giornata odierna, i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Siracusa hanno inoltre arrestato in flagranza di reato Alessio Intorri, di 28 anni, siracusano disoccupato per detenzione di sostanza stupefacente. I militari insospettiti da un continuo via vai di autovetture e motocicli nei pressi di via Immordini, nella zona nord della città, hanno deciso di effettuare un controllo. I conduttori dei veicoli sospetti, infatti, dopo aver parlato con il giovane, ricevevano delle bustine di ceilofan e si allontanavano in maniera molto celere. I militari dell'arma, avendo osservato tale atteggiamento ripetuto sempre con le stesse modalità, hanno deciso di procedere ad un accertamento mirato. In particolare i carabinieri, dopo aver fermato e perquisito il 28enne siracusano, hanno rinvenuto all'interno dell'intercapedine di un passamane in ferro adiacente ad alcune gradinate. Otto involucri di sostanza stupefacente di tipo hashish, pronte ad essere vendute e consumate. In Turri, a questo punto, vistosi alle strette, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato pertanto tratto in arresto. Nel corso della notte, tra domenica e lunedì scorsi, i carabinieri della stazione di Pachino hanno tratto in arresto Giuseppe Petralito, di 23 anni, in quanto a seguito di perquisizione è stato rinvenuto all'interno della sua abitazione un fucile e circa 70 cartucce non dichiarate. Immediato il sequestro dell'arma e dei colpi. I successivi accertamenti hanno permesso di attestare la provenienza illecita del fucile provento di un furto avvenuto nel 2014, nello stesso centro cittadino. I carabinieri stanno ancora indagando per appurare come l'uomo possa essere venuto in possesso dell'arma. Inaugurato il Museo del Barocco Netino, quindi riaperta l'ex caserma Cassonello. Noto si è riappropriata di un altro dei gioielli di famiglia, l'ex caserma Cassonello, ma prima di tutto convento di Sant'Antonio, nella zona del Piano Alto. E dire che tre anni e mezzo fa rischiava di diventare la sede della condotta agraria è proprio il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, a ricordare quanto accaduto. Finiti i lavori, la soprintendenza mi invitò a visitare i locali e mi dissero «qui verranno allocati gli uffici della condotta agraria». «Una soluzione che mi lasciò subito perplesso. Così proposi uno scambio. Avremmo destinato altri locali alla condotta, per tenere questi a disposizione di un progetto culturale». Così ebbe inizio tutto il percorso sino ad arrivare alla serata di oggi. Una grande soddisfazione perché permette di continuare il percorso intrapreso da questa amministrazione, di ampliamento non solo in termini numerici di luoghi deputati alla cultura, ma anche dell'area di interesse turistico-culturale, che continua a spostare il proprio asse affinché dal centro storico si arrivi ad inglobare tutto il piano alto, dove ci sono mirabili esempi di edifici barocchi e liberti. Un'intera sala ospita la mostra «Le Pietre Sacre del Barocco», dalla quale poi si accede a quelle che invece ci raccontano i mecenati del barocco, le sette famiglie nobili protagoniste della storia. Landolina, Nicolaci, Impellizzeri, Di Lorenzo, Trigona, Rau ed Astuto. Un lavoro suddiviso in quattro sezioni, caratteristiche dei feudi, economia e cultura, araldica, il palazzo e i dipinti, e per la famiglia Astuto anche i pannelli dedicati all'archeologia, monete e incunaboli. Da sottolineare gli affreschi riportati alla luce nelle pareti e nelle volte delle sale, continui scoperti di un passato che è presente più che mai. Gli alunni dell'Istituto Alberghiero Federico II di Svevia di Siracusa hanno partecipato a Milano al Salone dell'Ospitalità. Gli alunni dell'Istituto Alberghiero Federico II di Svevia di Siracusa hanno partecipato alla manifestazione che si è svolta a Milano denominata OST, il Salone Internazionale dell'Ospitalità Professionale con oltre 2.000 espositori in rappresentanza di 52 paesi del mondo. OST è diventato nel corso degli anni un luogo di incontro esclusivo tra aziende produttrici leader di mercato e buyer internazionali, nonché un appuntamento per appassionati e professionisti alla ricerca delle ultime tendenze del mondo dell'ospitalità. Oltre all'Alberghiero di Siracusa anche gli alunni degli altri istituti, infatti l'Amerigo Vespucci Paolo Frisi di Milano. Settore sala e vendita sono stati i protagonisti della fiera dell'ospitalità. Gli alunni dell'Istituto Siracusano sono stati coordinati dal professore Gaetano Bongiovanni e hanno dimostrato grande professionalità, presentando fra l'altro gli ultimi modelli di macchine da caffè espressa automatizzate, sottolineando l'importanza dell'acqua nelle fasi di preparazione del caffè espresso e nelle diverse tipologie di estrazione di caffè. Un'esperienza che ha permesso agli alunni dell'Istituto Alberghiero Siracusano di confrontarsi con i professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. Se svolta a Siracusa la Sicilia League di calcio balilla da affermarsi è stata la squadra di Caltanisset. Un campionato di calcio balilla al quale hanno partecipato decine di appassionati provenienti da tutta la regione. Il centro commerciale I Papiri si è trasformato nell'ideale stadio per l'esibizione degli atleti di ogni età che hanno dato vita alla Sicilia League. Organizzata dalla Federazione Italiana Calcio Tavolo, il torneo ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti da ogni parte dell'isola. Per tre giorni si sono susseguite le sfide fra le squadre, tra gli atleti partecipanti e anche i virtuosi del calcio balilla che hanno dato spettacolo con le loro giocate. A sovrintendere le giornate di Sicilia League, Catiuscia Cannizzaro e Alessandro Floris, responsabili della federazione nella nostra regione. L'aspetto agonistico si è concluso con l'affermazione della rappresentativa di Caltanissetta che ha sbaragliato il campo e i concorrenti. Tra questi anche tanti bambini che si sono approcciati allo sport e che accomuna diverse generazioni e proprio i bambini più bravi hanno ricevuto premi e medaglie ricordo. Bene, con questo è tutto, era l'ultimo servizio, il nostro telegiornale si conclude e vi auguriamo un buon proseguimento di programma. Grazie a tutti. Grazie a tutti.